Per l'anno prossimo ci attrezzeremo, chissà, azzitati oggi e chissà, qua è questo, pensate che voi venite, voi venite da Alia e la prossima settimana eventualmente potete venire, ma c'è gente che per venire a vedere l'Etna vende da America, da Giappone, da Germania e vede e paga un sacco di soldi e un mire ne è uscito qui, rassegnatevi senza lamentarevi, senza lamentare non cominciamo a dire c'era una brutta giornata, per cui c'era curpa nulla, non perde dentro, siccome ci conosciamo tutti e vediamo di dire nelle giornate, qua e all'etna, alla montagna, e come ne è, non c'è nessuno che ti abbronze, non c'è nessuno che ci puoi pagare un'ora, se ne va in Sannecchia, per esempio, un'ivega, può succedere tutte cose, ma quando è che non piove? se ne va in Sannecchia, per esempio, una montagna che si spesa di un vero, non c'è nessuno che ci ma adesso devo dire che lo abbiamo fatto lo so che abbiamo fatto è un buon cosa lo so che abbiamo fatto lo so che abbiamo fatto lo so che abbiamo fatto fermati questo è un altro prateresmento per ora non si vede ma andate in un certo momento questo è un prateresmento ed è difficile invece qui ci dice qui ci dice qui ci dice qui ci dice davanti davanti a destra 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 I never had this feeling before I never wanted anyone more And something in your eyes tells me You'd feel the way that I I feel like you too If you would like to stay here all night You know that I would say it's alright Though I'm saying yes, I confess I've got more on my mind Cause I want more of you than your time I want more of you than your mind And song Every kind of love you can express All the secret dreams you've never told I want everything and I'll take nothing less Partenza per le ore 6, le ore 18 Partenza Se piove la facciamo mezz'ora prima Alle 17 e 30 o alle 5 e mezzo come preferita A Taormina potete vedere il teatro che è a pagamento Ci vogliono 6 euro per entrare Over 18, over 65 non pagano Gli insegnanti che ce l'hanno sulla tessera hanno la riduzione del 50% Chi è dentro è 65 e oltre i 18 paga il biglietto di 6 euro per andare a visitare il teatro che visita l'Ittera Potete passeggiare nel corso principale di Taormina è un'isola pedonale Potete prendere delle granite Potete vedere il vicolo stretto che è una stradina piccola piccola che ci va a un viciano per forza E potete vedere tutte le stradine, arrivare a Porta Catania che è dalla parte opposta La chiesa, il museo, quello che volete Avete da 2 ore e mezza a 3 ore di tempo per trippiare Va bene? Come si chiama il parcheggio? Lumi! 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 No one else will do And your eyes They tell me how much you care Oh yes You will always be My endless love